Dopo mesi di riti legati a questioni di denaro, nella serata di ieri Alessandro Verrini, 39 anni, residente a Coldirodi, avrebbe accoltellato a morte a Sanremo in via Padre Semeria il rivale Fernando Foschini, 60 anni, anche lui residente a Coldirodi. Lo avrebbe affiancato mentre era in scooter e colpito con dei fendenti mortali davanti a testimoni che hanno subito chiamato polizie e soccorsi. La vittima, ex proprietario del bar Mondovidico di Rodi, il 3 maggio del 2008 aveva preso a fucilate il Verrini per una questione di presunti debiti. Dopo poche ore dal delitto i poliziotti hanno fermato il presunto omicida nella zona di Pian di Poma. Gli uomini della squadra mobile diretti da Giuseppe Lo Deserto lo hanno portato prima in ospedale a Sanremo per accertamenti legati a sangue e DNA, quindi trasferito a nottefonda in commissariato dove Alessandro Verrini è rimasto fino a stamani quando è stato nuovamente trasferito. Questa volta nel carcere di Imperia gli investigatori stanno ancora raccogliendo elementi per fissare in modo inequivocabile le sue responsabilità in merito all'omicidio, come ha spiegato la scorsa notte il capo della mobile imperiesa Lo Deserto. Dottore Lo Deserto, un episodio criminale preoccupante. Qui a Sanremo però un'operazione lampo, potremmo dire, il responsabile è subito assicurato alla giustizia. Certamente c'è la morte di un uomo, quindi questo è il lato assolutamente negativo della vicenda e l'aspetto positivo è che il responsabile di questo fatto è stato individuato e in questo momento portato qui in commissariato, però al momento non posso dirvi altro perché stiamo lavorando. Ci sono ancora certamente in corso, insomma anche riscontri? Assolutamente, stiamo facendo quello che dobbiamo fare, però il tempo ci vuole e ci vuole lasciare lavorare, poi daremo sicuramente maggiori dettagli. 2 milioni di euro per un piano rifiuti, progetti pilota e buone pratiche nella gestione degli scarti da pesca, acquacultura e miti di cultura su oltre 4200 chilometri di costa dalla Liguria alla Toscana, dalla Corsica alla Sardegna. È Prisma Med, il progetto del programma Interrega Italia-Francia-Marittimo 2014-2020 che ha come obiettivo strategico la gestione integrata nei porti commerciali e porticcioli dei rifiuti e degli scarti di prodotti dell'attività legata alla pesca, alla nautica da di porto. Prisma Med da come capofila Regione Liguria e l'assessore regionale Stefano Mai ha evidenziato come sia importante per consentire la convivenza tra imprese del comparto ittico, nautica e turismo. Tra gli obiettivi del progetto il miglioramento delle condizioni ambientali, logistiche igienico-sanitarie, delle aree portuali, la realizzazione di una filiera del rifiuto e l'allestimento di isole ecologiche ad hoc sperimentali, lo sviluppo dell'economia circolare legata al recupero integrale di alcuni prodotti di scarto organici e inorganici tipici della pesca e dell'acquacultura al fine di reinserirli nel ciclo produttivo. Ragazzi in Azienda 2018 è un progetto di orientamento scolastico che ha l'obiettivo di far conoscere le industrie del territorio e gli studenti imperiesi, di orientarli alla professione del futuro. Con questa finalità Confindustria Imperia ha aderito e sviluppato sul suo territorio la seconda edizione di Ragazzi in Azienda, ampliamento regionale di fabbriche aperte, nato a Savona 11 anni fa. Accompagnati dagli insegnanti, quasi 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado, dopo essersi preparati in classe, sono usciti dalle aule degli istituti della provincia d'Imperia per effettuare un viaggio fra le parti di produzione, laboratori, magazzini e uffici nelle cinque aziende che hanno aperto loro le porte, la Alberti Spa, la Fratelli Carli Spa, la Grafica Madeo SRL, la Monta Spa e la Raineri SPA. Un percorso articolato in visite aziendali, giochi, interviste e video per la produzione di un Tg che racconta l'eccellenza del territorio, che ha interessato e stimolato i ragazzi coinvolti con una partecipazione attiva. Venerdì 22 giugno alle 21 negli studi di Imperia TV andai in scena in diretta l'ultimo confronto fra i due candidati a sindaco Claudio Scaiola e Luca Lanteri, arrivati al ballottaggio dopo le elezioni amministrative dello scorso 10 giugno. Il dibattito è organizzato da Imperia TV, Riviera24.it e R24 Radio e sarà condotto dai giornalisti Andrea Pomati e Diego David. Per Claudio Scaiola, con Claudio per Imperia e Luca Lanteri centrodestra, sarà l'ultima occasione per rivolgersi agli elettori e illustrare il loro progetto per la città, prima della grande sfida di domenica 24 giugno. Il dibattito, al termine del quale scatterà il silenzio elettorale, potrà essere seguito in diretta su Imperia TV, canale 16 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito imperiatv.it, riviera24.it e pagina Facebook di Riviera24 e su R24 Radio. Presidente Podesta, San Giovanni continuo, abbiamo già cominciato a gustare anche delle sorprese qui dalle cucine, fra queste lo zabaione che arriva da Apricale, un successo senza precedenti, insomma ogni volta che si fanno i test da queste parti funzionano. Sì, in effetti è stata una scelta fortunata, l'anno scorso l'abbiamo introdotto, devo dire grazie a Alessandro del ristorante Baci che viene qua a farlo ed è molto gradito, eravamo un po' i dubbi perché lo zabaione con queste temperature pensavamo di no, ma invece ha un grandissimo successo e la sera ne va veramente a quantità incredibili. E qui si prosegue naturalmente con lo stoccafiso, la gioanina funziona a pieno ritmo ma funzionano un po' tutti i comparti dei festeggiamenti, tantissimi gli stand dove si alternano anche molte associazioni del territorio, c'è sempre uno spazio per i sociali. Beh sì, certo, noi non ci dimentichiamo di quello, da sempre abbiamo sostenuto, ospitato tutte le associazioni che ci chiedono, le associazioni di volontariato che ci chiedono spazi per promuoversi. Lo facciamo, abbiamo aumentato le collaborazioni, ci aiutiamo reciprocamente, noi con l'organizzazione le attrezzature, altri portando eventi e sempre di più il comitato si apre verso l'esterno. Tanti spazi, l'abbiamo detto, per le famiglie, per grandi e piccoli, tante iniziative, momenti di intrattenimento, musica, balli, ovviamente insieme a Mediterranea Cucina. Beh, quella è la nostra tradizione, la cucina che ogni anno cerchiamo di migliorare, rimanendo nella tradizione, i nostri piatti sono più o meno sempre gli stessi, quest'anno introdurremo in una giornata una novità, sorpresa, lo facciamo come è stato lo Zabaglione lo scorso anno, in modo di vedere il gradimento della gente e tra l'altro quest'anno abbiamo anche una novità, stiamo facendo fare un censimento su alcuni aspetti per migliorarci grazie alla collaborazione con il liceo VSE, i ragazzi che vengono a fare delle interviste su un questionario e poi da questi dati vedremo di porre le dovute osservazioni. Insomma, anche il comitato si rivolge al controllo qualità, possiamo dire così? Assolutamente, certo, bisogna... La customer satisfaction, come dicono quelli che studiano. Esatto, noi diciamo che cerchiamo di far sì che la gente sia sempre più soddisfatta e anche il gradimento, il palato cambia, le esigenze, anche rimanendo nella tradizione, siamo sempre questo grande contenitore, lo stile è sempre quello della Sagra, ma sempre di più c'è divertimento per tutti, dai piccoli, i circo, i giochi, le famiglie, lo shopping con mercantineia, insomma cerchiamo di dare a tutta la famiglia, a tutti i ragazzi, giovani, anziani, diciamo un momento di serenità, un momento di svago. E poi c'è una notizia, Presidente, perché in questi giorni si è fatto un gran parlare in tutti i bar di Imperia del fatto che San Giovanni cade il giorno del ballottaggio e è nata una leggenda metropolitana, secondo cui per ordine pubblico non avrebbero fatto la processione ai fuochi oppure ridotti la processione a cambiare percorso, i fuochi forse si fanno più tardi. Noi alla fine abbiamo telefonato al questore, gliel'abbiamo chiesto e non cambia niente, San Giovanni è San Giovanni e continua anche con il ballottaggio, quindi insomma questa è la notizia ufficiale. Sì, è così e devo veramente ringraziare il questore, tutta la questura, le forze di polizia perché devo dire che per garantire di fare questi eventi, continuare nella tradizione loro fanno un grande sforzo, quindi hanno avuto pazienza, li ringraziamo veramente perché io ho partecipato a varie riunioni per mettere in sicurezza l'aria e devo dire che ho apprezzato molto disponibilità, pazienza nel cercare di ottemperare un qualcosa non facile neanche per loro, quindi questo veramente è sono bravo. Sarà di nuovo un weekend da Bollino Rosso, il turismo del Mordi e Fuggi che domenica scorsa ha intasato le nostre autostrade tornerà sicuramente a verificarsi. Beh, l'estate sta entrando nel pieno ma dobbiamo stare attenti, oltre ai pronostici del tutto esaurito, che livelli di temperatura avremo e dovremo sopportare. Un dato preoccupante giunge dal mondo della scienza che annuncia come il riscaldamento totale supererà la normalità di un grado e mezzo se le emissioni di gas serra rimarranno quelle attuali. La data del grande allarme sarà il 2040, sì c'è ancora molto tempo da aspettare ma intanto i gradi poco per volta crescono. Lo studio è del centro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e la bozza è stata inviata ai governi per una valutazione preliminare di quella che sarà poi l'incontro decisivo in Corea in autunno. Occorre che tutti insieme si blocchi la possibilità di ulteriori aumenti causati dall'inquinamento di fabbriche ma anche dalle auto circolanti. È stato accertato che il cambiamento climatico oggi è arrivato ad un grado in più e che aumenta di 0,2 gradi ogni dieci anni. Ora ci chiediamo quanto influisce sul nostro territorio lo scarico di gas nocivi che fuoriescono dalle auto incolonnate su autostrade e sulle arterie costiere. Per salvaguardare occorrono parcheggi fuori dai centri abitati e sperare che le temperature dell'estate non provocchi di ulteriori danni. A proposito di danni, come sarà l'estate per le reti fognarie? Come sarà il mare senza depuratori? Bah, sarà come sempre, pioveranno promesse che poi non verranno mantenute. San Paolino di Nola Ponzio Meropio Anicio Paolino nacque intorno al 353 a Bordeaux da una ricca famiglia cristiana. Nel 381, già governatore della Campania, ebbe i primi contatti con Nola, dove si trova la tomba di San Felice. Turbato dal racconto del martirio di San Felice, rinunciò all'incarico di governatore e partì per la Spagna, dove conobbe la moglie Terassia. La morte prematura del figlio Celso lo portò a dedicarsi alla scesi cristiana, così d'accordo con la moglie distribuì i beni ai poveri. Ordinato sacerdote a Barcellona, fece poi ritorno a Nola, dove nel 409 fu nominato vescovo. Con l'esempio di Paolino e Terassia, molti ricchi si misero a servizio dei poveri e Nola divenne un centro fiorente di vita monastica.